Doppio colpo in entrata per il Messina che nella giornata di ieri ha ufficializzato l'ingaggio del promettente Omar Gaiè, 20 anni, terzino sinistro gambiano proveniente dalla Juve Stabia. Ha firmato anche il centrocampista romano Lory Straditi, 25 anni, nell'ultima stagione in forza al Monterosi. Si allena con il team peloritano Fabio Padulano, 24 anni, alla cresciuta nel vivaio della Juventus che ha già vestito la maglia biancoscudata tre stagioni fa in Serie C. Il sogno, però, è l'esperto agrigentino Desiderio Garufo, classe 1987, nelle ultime due stagioni al Parma. Il duttile centrocampista di Grotti attualmente si allena con il Trapani ed è seguito anche dal Catanzaro, ma il Messina è pronto a fare di tutto per garantire al tecnico Giuseppe Raffaele un altro innesto di grande spessore. In difesa i nomi caldi sono due, il prodotto del settore giovanile del Palermo Amedeo Silvestri, 26 anni, fratello dell'ex calciatore del Messina Luigi e la scorsa stagione al Troina, e quello dello spagnolo Ruano, classe 1994, ex canterano del Barcelona e con un passato nel vivaio dell'Atletico Madrid, anche lì lo scorso anno al Troina. Sfuma il playmaker Gennaro Esposito, 33 anni, nelle ultime due stagioni al Potenza. Il mediano napoletano dovrebbe accettare alla fine la corte del Casarano, che in volata batterà la concorrenza di Messina, Brindisi, Turris e Nocerina. La società peloritana sta stondando anche il terreno per un portiere di esperienza, che andrebbe ad affiancare i giovani Federico Meo e Carmelo Di Marzo, con Armando Prisco che potrebbe lasciare il Messina ed accasarsi all'Igea Virtus. Intanto l'ex terzino giallorosso Santino Misale si è accasato al Gela di Karel Zeman, dove ritroverà l'attaccante Arcangelo Ragosta e forse anche il centrocampista Giovanni Lavrendi. Infine potrebbe presto raggiungere la cittadella sportiva universitaria dell'Annunziata l'attaccante barcellonese Fabio Aveni, classe 1995, lo scorso anno all'Igea Virtus. Talento cristallino deve lasciarsi alle spalle troppi problemi fisici che hanno frenato la sua crescita, ma la sua voglia di rilanciarsi è tanta e gode della stima dello staff tecnico giallorosso.